Sorprendenti novità catalizzeranno l'attenzione dei telespettatori di Beautiful nel corso delle puntate trasmesse a inizio settembre negli USA. Le trame dello sceneggiato svelano che Eric Forrester potrebbe essere disponibile a intraprendere una relazione da coppia aperta per non perdere Queen Fuller. Paris Buckingham, invece, sarà accusata di avere una cotta per Finn. Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane trasmesse a inizio settembre sulla CBS svelano che Eric spierà una conversazione tra Quinn e Shauna. L'uomo, infatti, scoprirà che sua moglie è felice di essere tornata insieme a lui. Sebbene le manchi far l'amore, cosa che è diventata impossibile fare a causa della sua disfunzione rettile. Per questo motivo, Fuller rivelerà la migliore amica di avere il cuore spezzato per se stessa e per Eric. Più tardi, Forrester spierà una conversazione intima tra Quinn e Carter, che gli susciterà emozioni contrastanti. Il capo della casa di moda apparirà geloso quando scoprirà che hanno avuto una relazione. Ma allo stesso tempo in colpo ha visto che non può dare a sua moglie ciò di cui ha bisogno. I portali americani annunciano che Eric sarebbe pronto a prendere una decisione che potrebbe destare scandalo, diventare una coppia aperta per permettere a quindi avere rapporti con Carter. Nelle prossime puntate di Beautiful previste tra un anno in Italia, Paris rifiuterà l'offerta di Cende di vivere insieme a lui nella tenuta Forrester. La sorella di Zoe, infatti, apparirà più concentrata negli affari di Finn che sul suo fidanzato. A tal proposito, quest'ultimo scoprirà della crisi coniugale tra Finn e Steffi. Paris, infatti, informerà Cende che Steffi si è rifiutata di presentare il certificato di matrimonio. In questo frangente, la Buckingham prenderà le difese di Finn, a differenza del giovane Forrester che sarà dalla parte della parente. Lo stilista accuserà la fidanzata di avere una cotta per il dottore. Un'accusa, che sarà respinta da Paris, sebbene abbia mostrato preoccupazione per il ragazzo. La sorella di Zoe, infatti, apparirà sempre più vicina a Finn, tanto da recarsi in più occasioni nella dependance per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Per quanto riguarda Finn, l'uomo sarà sempre più diviso tra Sheila e Steffi, che appariranno disposte a tutto pur di farsi la guerra a vicenda. Per questo motivo, il dottore sarà costretto a prendere una decisione, il suo matrimonio con la madre di suo figlio e il rapporto con la giovane Carter, appena tornata nella sua vita. In attesa di conoscere ulteriori dettagli su questa storyline, si ricorda la soap opera è trasmesse ogni giorno dalle ore 13.45 su Canale 5.